Ciao a tutti, qui è Lassio e oggi ci troviamo in questo nuovissimo video su Rainbow Six Siege Oggi vi farò vedere dei vari classificati che ho fatto, non so se è una o due partite Perché io avendo le registrate di fila vi farò vedere le partite, possiamo dire, migliori Anche se sono a grado basso, visto che il gioco mi vuole male E io, essendo un ex Platino 2, adesso trovate il mio Bronze 2 in questa stagione Beh, insomma, manco io come comportarmi, quindi... Cioè, provo ad andare avanti, ma il gioco purtroppo pure contro i bronzini non mi riesce... Cioè, non mi fa andare avanti Perché ho trovato team contro, ho trovato gente a bronzo che fa tipo 15-20 kill E trovo gente a casa Vabbè, comunque, spero che il video vi piaccia Iscrivetevi, lasciate un mi piace È un video in compagnia, quindi... Lasciate sotto nei commenti se voleste, che ne so, partecipate con me a fare classificate Io sarei molto contento Perlomeno, che ne so, giochiamo in team, ci divertiamo e cerchiamo di scalare E quindi vi lascio a una buona visione A me mi fa paura una sola a fondare Di cazzo è la... No, ma è quella l'ho What? Eh, vabbè, lagga la camp Ok No, no, quella più avanti ancora, ce ne sono altre C'ho 90 di ping, eh, l'amato... Eh, vabbè, guarda che mi trete a sport indietro Ma come cazzo uno vorrebbe giocare così? Posizione rilevata Ah, non è morto Ben di zittato Un botto Oh, che cazzo mi ha fatto giocare sotto la puttana di tua mamma Che cazzo mi ha fatto giocare Quella grandissima, signora Chi è? Madò, a me che... Figgio, figlio, figlio Quei cazzo mi ha fatto giocare in mano Eh, ci vai Che cazzo mi ha fatto Sì, è gioco Eh, vai, vai, buona fortuna Drono Spero che non buttino i C4 Eh, tiè, tiè Tiè, tiè Guarda che camper Eh, mi hanno fatto il drone Ehm... Attenta, adesso De cazzo è? Il drone è del cazzo Inquadro Oh, attento Mi ha tirato l'ediciotto, davvero, l'ediciotto Non ho seriamente... Ma dov'è il coso 10, che non lo trovo? Ma eccolo l'asp Mi ha tirato l'ediciotto con lo scudo davanti Eh, vabbè, attraverso il coso Zofia, usa i cosi Zofia Che cazzo è successo? Guarda che camper Oh, moretti Oh, ormai da una vita Eh, io mo' 300 Oh, c'ho tornato loro No, mille c4 Io mo' in bloti Ah, ahah Ahah Ahahah Ahahah Sto amorendo! Non è che il gioco fa cagare? Sì Sto amorendo! Ti giuro Cazzo Oh Gio No perché sei spawnato di là? Mi hai lasciato da solo Che schiena va bene va bene allora presenta la canzone di Forte cioè da 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 eh ah L' ho rivolto L' ho rivolto ahahahahah ahahahahah ahahah Hai capito come si fa questa heal ahahah Sì, è trovarsi il coso a coso Ah, non l'ho flippata Ma tanto cavera comunque Vale Ok Cicco Cicco, 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 cicco Ok Sì, ma la più bella che ho fatto io, sentate L'ho rifatto È arrivato a questo punto che penso che non sia forza Hai un culo grosso come una casa Penso che sia un top player Eh Eh, vai Il giorno mi farò una collatera così Quello è da clippare Ma è inutile, chi da casa... Anche se devo dirtela veri bella stavo facendo ora la collatera Sì, va beh Io era lì Ah, ecco Un'altra parte Vai Ascью E adesso ci va morire Una parte Una parte Un'altra parte Un'altra parte Guardi Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte non è bello ma dove potranno stare l'age? non c'è chiudere il dodo piazza al solfinato c'è la canzone a memoria c'è l'agile ho pauso controllo le due entrate da cosa? come si chiama? quello con lo scudo sta da quello con lo scudo con l'acqua elettrificata è venuta uno bello ma qua è un aperto c'è un altro super non lo scudo Oh cazzo, sto fermando No, porco No, non so Dai da sinistra Che cazzo sta controllando, voglio sapere Ma perché? Ja, ma che sta vedendo questo, ma do Ma ho ucciso Fiuso a me Ja, ma perché? Che cazzo Il brutto dell'arma di vigile che non fa un cazzo Ma questo che fa? Una cosa è che fa tenere quell'entrata del cazzo Si mette nell'angolino Ma proprio, cioè, quello perché mi fanno i negli, cioè Quella è la loro Palle, madò Allora, quando mi sto sbagliando io, cioè, stiamo lottando di più, eh Ma che lotto, sto facendo 4 kg Se c'è lottato, devo farmi 8 kg 8, no Cioè, nel senso che mi sono sbagliato io, corrito Ma, intanto siamo perdati noi stessi, eh Tu vuoi riadormi, no? Uh, ti vuoi riadormi Oh, qua è chiuso Non ho scordato sempre Non ho scordato sempre Non ho scordato sempre Si, non ho scordato il tempo Il fatto, molto vivibile rischio trovate È saluto Non ho scordato 380 di ping Ma non è niente di questo Stanno sopra tutto Andiamo dal tetto No, vai lock Ma copri tu quello zone Via C'è qualcosa di alibi, attenta Ci sarà alibi pure Sto controllando qua Gio, rimettiti nel senso il drone Ho sentito, ho sentito T'ho salvato, t'ho salvato Il caspita Eh, lo so, ho visto Eh, ma noi siamo contro noi Ah no, stai faccio Ah, poi parecca lei ha Quindi, ma come vuole Sto sperando sarebbe bellissimo Sì, comunque per colpo Stavo morrendo in due Per il capo Eh, ero rimasto con 10 di vita Oh, mettiamoci Soggiorno No, camera matrimoniale Camera matrimoniale Faccio il campo Ma mi metti Nedglitch Sto sperando che era camera matrimoniale Non mi ricordo male Sì, sì Dove hai fatto tu prima Il cilà, il cilà Cosa No, non c'è Quella con il balcone fuori Ah, non è camera matrimoniale Ma Dobbiamo proteggere il credentore di Fiorino Ma Dovevamo mettere in studio, allora Eh, c'è un filo spinato Ah, ma io Io mi ando qua Calma, no, no C'è un filo spinato Ah, vediamo Qui c'è qui Doc, doc Sì No, no Sì, di merda Che caccia mi pare Che caccia mi pare Che caccia 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 Ognuna porta di là Non è antiproiettore L'ho perso No, previsco il filo Non mi piace A una cosa antiproiettore Per rallentare, minchia Venite le gama Appena purpa Da si è spotto qualcuno Eh, stavo per spotto Sì, ti posso spotto qualcuno? Sì Che caccia Feud Termite C'è qualcuno con lo scudo Forse Ah, caccia Un'altra 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 Chiudzo fuori finassi Chiudzo dammi Chiudzo Zitto Chiudzo fuori da me Cazzo Chiudzo fuori da me Mi trovo già Per il massimo faccio charro quadrato e ho fatto Un po' me la taglio e tutto Chiudzo ha trovato Goku Spersi nel tutto Però mi pare che questo Poi lo tengo pure io Però non è buono In Italia Quanto iniziano ad uscire Tra i nuovi bisogni Dragon Ball Eros In Italia Non sono mai usciti Quanto iniziano ad uscire ho detto Mai Cioè è una cosa solo in Giappone Cioè l'Italia non uscirà questa sera No Il massimo se uscirà ma fra 4-5 anni credo Che son male Deve ancora uscire super Figurati cosa Quello Eh proprio Beh Secondo me Lei Dispettatori in Italia Non c'erano No In Italia In Europa Mi siamo messi in studio Che ne so Io ho preso l'operatore Non ho scelto Non ho preso l'operatore Ho preso l'operatore a casa Ma in campanità Chiudi Per Teko Perfello Da Non ho preso l'operatore Perfello Fanta Chis Anche Ci sono Lascia Chiudi Lascia cazzo un altro da me cazzo da me no lag lag un altro maestro maverick un altro maestro un altro maestro un altro maestro un altro maestro ma stiamo contro i bronzini ma quale bella partita ma quale diamanti ma per favore sto a fare schifo ma per favore contro i bronzini minimo minimo mi devo fare 2-3 full team in questa partita minimo purtroppo il mio livello si è abbassato purtroppo non ci gioco trovate quel tentore del mio livello dopo invia la foto a roberto che io si nella partita vita su quando ne abbiamo fatte si si ma ma io dopo questo stacco se vuoi venire su forte massimo se non stacco proprio se ne andiamo a fare un paio di test ma se no fin a boh facciamo fino alle 11-14 da cazzo sta? giù a tutto eh per forza dai asce non sono ah si ma tanto headshot si 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 stanno giù a tutto il vado ti vado 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 il mi i i i i i Vabbè M-Lag Stai ne butto uno C4 dietro i camion Vabbè tu stai tirato a posto I'm not sure about one more E' moso il cazzo Ah meno male Questo l'angelo di granate è cazzo Cazzo Ma vaffanculo Ti vedi guarda che c'è Lug un bot di là, due dentro a posto Guarda col drone mio Sto vedo Lug un bot di là Vittata Prova a push, prova ad avanzare Sto vedo Lug un bot di là Chare Lug un bot di là Chiore guarda questo dove stavo guarda dove stava guarda la che schifo che schifo io ma lancio la stordente tipo mi sembra che torna indietro e pop avanti è la che non muro 40 colpi no mettiamoci in posto ma che cancro frost abbiamo vinto perché me l'avevo fatta bisogna ci fosse stata frost il cancro casuale ma va barricate la stanza dobbiamo proteggere il coltentore di orizio ok ma piace ok 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 Capito